A due giorni dalla fine della sessione estiva del calciomercato, lo spezia a reduce della sconfitta con il Palermo, si lecca le ferite con la società che cerca di porre rimedio in quei settori del campo dove sono state evidenziate le maggiori lacune, ma anche con l'imperativo di sfoltire una rosa che contagia parecchi esuberi. Le ultime di radiomercato danno il possibile arrivo di Luigi Giorgi dall'Ascoli oppure dell'ex Aquilotto Krizetig ai margini del Bologna e tra gli svincolati Francesco Signori ex Modena. Niente da fare invece per Eramo finito a Lentella. In attacco discorso sempre aperto per Alberto Gilardino che si sta allenando all'Uperi di Sarzana mentre sono attive le piste che portano a Marilungo che però ebbe già rifiutare lo spezia in luogo dell'Empoli e al sogno Peptovic già trapani ora al Bologna. Nulla da fare invece sempre per il Beneventano Ceravolo. In uscita piccolo in partenza per Brescia mentre altri elementi potrebbero andare in Serie C vede i Cisotti o all'estero nel caso di Daktovic. Intanto alla ripresa dei lavori in vista della prima uscita a Casalinga di domenica sera contro il Carpi ha parlato in conferenza stampa l'esperto difensore Daniele Capelli. A Palermo ha detto diversi calciatori non avevano mai giocato insieme serve tempo per amalgamarci al meglio ma non dobbiamo fare drammi siamo soltanto all'inizio ed è normale che alcune cose non funzionino al meglio. Nessun inizieremo a tirarle dopo sei partite una gara non può essere lo specchio di una stagione bisogna essere lucidi e analizzare le cose a mente fredda. Domenica al picco arriva il Carpi per Capelli in Serie B i pronostici non vanno guardati nulla è scontato ed in primis in questo momento dobbiamo pensare soltanto a noi lavorando sulla nostra identità.